Ora voglio sentire Luca Sommi e poi anche Oara Borselli su questo tema. Come si fa a mettere insieme quest'Italia? Dal punto di vista del diritto, uno ha diritto a diventare ricco se lo fa legittimamente, ha diritto a guadagnare i suoi soldi, a spenderli come vuole, eccetera eccetera. Dall'altra parte le persone hanno diritto, che non sono ricche, ad, come abbiamo detto tante altre volte perché so che tu sei sensibile a questo tema, hanno diritto a rispondere ai loro bisogni di base e non sempre ce la fanno con questi stipendi. Come si mette insieme tutto questo? Si fa la lotta di classe? No, 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 dovrebbe essere così che la parte ricca del paese, oltre ad essere una ricchezza etica, ossia che paga le tasse, è sobria, non cafona, non che sbeffeggia chi non arriva alla fine del mese come abbiamo visto la settimana scorsa, sarebbe bello che fosse anche una ricchezza solidale, ossia che aiutasse coloro che non ce la fanno. Lo dicevo l'altra volta, ci sono 40 persone in Italia che hanno un patrimonio superiore a un miliardo, pagano le tasse che pago io. Ecco, se aggiungiamo una piccola tassa che ha un miliardo, un 2%, per loro non è niente e sarebbe tantissimo per coloro che non arrivano alla fine del mese. Poi detto questo, io non ce l'ho con la ricchezza, non c'è niente di male se uno guadagna legittimamente i suoi soldi e li spende come vuole, però c'è anche, come dire, quella sobirità della coscienza. Ecco, siamo di fronte a un momento storico dove un governo non è capace di fare un salario minimo, cioè non riesce a garantire 9 euro all'ora a un lavoratore, c'è chi prende 5 euro all'ora. Ecco, quando ci sono delle persone, dei bambini che a Natale avranno delle famiglie con un papà che guadagna 5 euro all'ora, io mi sentirei in imbarazzo ad andare in una camera da letto in un weekend a spendere 35.000 euro, così come mi sentirei in imbarazzo. Ma questa è una questione personale, a spendere 120.000 euro per un orologio. Io credo che l'etica dell'esistenza sia essere misurati alle proprie possibilità, sicuro. Però sarebbe molto importante che la parte ricca del paese andasse incontro a quella povera e se non lo fa a suo sponte, secondo me una piccola tassa agevolerebbe. La loro vita non cambierebbe di una virgola, resterebbero ricchi, l'altra forse cambierebbe un po'. È vero.